Cosa fa Acer per il mondo della scuola? Acer è presente sul mercato nell'Information Technology mondiale da più di 40 anni. La nostra mission da sempre è sempre stata orientata a cercare di abbattere le barriere tra gli utilizzatori e la tecnologia per semplificare la vita. E la scuola è stata da subito il mercato di riferimento. Quello che noi stiamo cercando di fare da anni è ascoltare i bisogni di docenti e studenti che per noi sono al centro del mondo della scuola e creare dei dispositivi e delle soluzioni per agevolarli, per facilitare l'apprendimento e far sì che la distanza tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro sia sempre minore e facilitare anche quindi l'ingresso degli studenti in un mondo competitivo come è quello oggi del business. Invece come si sviluppa il business con Cometa? Acer da sempre ha un modello di vendita indiretto. Noi non vendiamo direttamente agli utenti finali e quindi neanche alle scuole. Pertanto abbiamo bisogno di partner di canale, di distributori in grado davvero di erogare il valore aggiunto. Cometa è assolutamente il nostro partner di riferimento per il mondo education distributivo. È in grado di parlare con molteplici rivenditori e di fornire non solo i prodotti ma anche la giusta consulenza per far sì che le scuole che sono un utente finale complesso siano soddisfatte delle soluzioni che mettiamo a posto per loro. Quali sono le novità che presentiamo? Oggi qui al Fiera Expo di Napoli presentiamo sia dei dispositivi innovativi come i dispositivi due in uno che alcune soluzioni software e hardware integrate sempre nella logica di creare una didattica interattiva e mettere a disposizione dei docenti nuovi dispositivi e nuovi strumenti. Abbiamo i nostri switch e abbiamo nella disposizione dei notebook tradizionali ma anche pc fissi con form factor particolarmente adatto al mondo delle scuole, videoproiettori con ottica corta ed ultracorta in linea con le standard di sicurezza e soprattutto il nostro software Hacer Classroom Manager e Hacer Teach Smart per avvicinare ancora oggi di più la distanza tra gli studenti e i docenti nella didattica. Come vedete dal punto di vista tecnologico l'evoluzione di questo mercato? È incredibile come ogni tanto quando ci presentiamo a delle scuole noi pensiamo che i nostri dispositivi siano troppo innovativi e faremo difficoltà a parlarne. In realtà anche recenti esperienze fatte con docenti e studenti ci hanno lasciato piacevolmente sorpresi come parole complesse come coding, IoT, Internet Things, Gamification o realtà virtuale sono già nel loro cassetto dei desideri, sono già molto competenti. È proprio verso queste soluzioni che Hacer sta lavorando. Grazie alla nostra linea di prodotto Gaming Predator stiamo integrando soluzioni di VR che siamo molto contenti di poter presentare a breve con soluzioni di didattica interattiva. Continueremo a lavorare per la gamification, per l'IoT con la nostra soluzione Cloud Professor. Il mondo della scuola non è assolutamente vecchio, anzi molto spesso è più avanti di noi. Oggi tocca a noi andare a recuperarlo.